Attenzione a queste drammatiche parole L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Non è possibile, vanno tutti quanti da Don Marrucchi Sì, pronto? Buongiorno signora, le chiedo un minuto del suo tempo per proporle un'importantissima promozione Sono stato promosso! La Repubblica tutela il lavoro e cura la formazione professionale dei lavoratori Lavorare significa sporcarsi le mani I capaci e meritevoli Che è proprio un palito! Anche se privi di mezzi Allora, se lei ci dà il prestito, noi possiamo incidere un disco Poi noi lo facciamo sentire a gente importante, come si chiama quello lì? La droni La droni Svegliati Hanno diritto di raggiungere i gradi più alti Ci fate sentire un pezzo della vostra canzone? Come fa il vostro capolavoro? Se lo Stato ti dimentica al politico che viene qua Cosa dirgli? Cosa dir? Buon lavoro! Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge Ladra! Esiste una legge, si chiama usucapione Chi trova una cosa, è il primo che la trova Diventa il padrone di quella cosa, diventa di sua proprietà Senza distinzione di razza Adesso ti chiami Mustafa Di condizioni personali e sociali Sono venuto a Chiama e se mi danno la canzone Fai bene Sandria a fartela dare, fai bene anche se è un buco Sono soggetti svantaggiati È dovere mantenere ed educare i figli Oggi c'è l'euro sai E devi imparare a dividere per due e togliere gli zelli La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura Ogni cittadino concorre al progresso materiale o spirituale della società Buon lavoro! È un film sull'Italia Buona fortuna!